La nuova opera di Dio Sì. È vero. La nuova opera di Dio La nuova opera di Dio La nuova opera di Dio Hanno capito che Dio si serve del gran dragone rosso Come complemento alla Sua opera Non si sentivano più limitati dal PCC E volevano persino diffondere il Vangelo Mentre condividevo, quelle sorelle mi guardavano come incantate Mi sentivo sempre più soddisfatta e rinvigorita Quando ho finito, una di loro ha detto così Riesce a discernere bene i problemi Io sarei totalmente smarrita Un'altra ha dichiarato con invidia Sembra tutto molto facile per te Se hai altre esperienze, condividile con noi Così possiamo imparare da te Ascoltare i loro complimenti mi ha resa felice Ho detto che i miei risultati erano dovuti solo alla guida di Dio Non ai miei sforzi Ma in cuor mio sentivo di aver sofferto per ottenerli Per me è lo stesso Quando il mio dovere produce dei risultati Ho stima di me e me ne vanto In seguito, mi piaceva mettermi in mostra sempre di più Infatti, una volta, una sorella si sentiva negativa Perché i suoi doveri di irrigazione non producevano risultati Ho pensato Se ammetto di avere le sue stesse difficoltà Perderò la stima degli altri Sono responsabile del suo lavoro Quindi le racconterò solo dei miei successi E le mostrerò in che modo ho condiviso la verità Per risolvere i vari problemi che ho affrontato Così risolverò i problemi dei fratelli e otterrò la loro stima Pertanto, ho evitato di parlare delle mie carenze Vantandomi invece di quanto fossi efficiente nei miei doveri Ho detto In questo periodo, ho irrigato e sostenuto cinque fratelli Qualcuno aveva nozioni religiose Altri non venivano regolarmente alle riunioni E altri ancora erano deboli per problemi a casa Sono andata da loro uno per uno Superando diverse difficoltà Ho cercato le parole di Dio E ho condiviso per risolvere i loro problemi Finché hanno compreso la verità Abbandonato le loro nozioni e assunto dei doveri C'era un fratello, un professionista Che veniva poco alle riunioni perché perseguiva la fama Ho avuto molte difficoltà nel nutrirlo Ma gli ho letto la parola di Dio e ho condiviso la Sua volontà Questo lo ha aiutato a capire il valore che ha per seguire la verità E a vedere che ricercare reputazione e prestigio è vano E che soltanto seguendo Dio poteva ottenere la verità e la vita E così ha deciso di adempiere i Suoi doveri Dopo ho visto sguardi ammirati sui volti delle sorelle E hanno annotato i passi che avevo letto Una di loro ha esclamato Hai usato la verità per risolvere i problemi Li hai aiutati a capire la volontà di Dio e a seguirlo Ci riesci perché possiedi la realtà della verità? Un'altra ha detto con ammirazione Se affrontassi questi problemi, non riuscirei a risolverli Tu hai più esperienza, quindi sei più brava di noi in questo Tutti ti adoravano Esatto L'ho percepito chiaramente Dopo la nostra chiacchierata, una sorella si sentiva negativa Di basso calibro, incapace di risolvere i problemi con la verità Mi sono chiesta Sto forse parlando troppo dei miei successi? I problemi che incontrano sono molto semplici per me e facili da risolvere Dunque si sentono inferiori, mi ammirano e si affidano a me per risolvere i problemi Ho pensato ai danni che provoca ammirare ed essere ammirati Sì Giusto Però poi mi sono detta Sto parlando loro della mia esperienza pratica Dovrebbe andare bene A quel punto non ho riflettuto su me stessa e la questione è scivolata via Ho incontrato due sorelle irrigatrici e ho chiesto come andasse il lavoro Appena sono arrivata, una ha esclamato Grazie al cielo Alcuni nostri fratelli hanno problemi che non sappiamo come risolvere Ora che ci sei tu, possiamo chiedere a te Quello sguardo di speranza nei Suoi occhi mi ha sia esaltata che preoccupata Esaltata perché mi guardava con ammirazione Ma preoccupata perché mi chiedevo se parlare dei risultati che ottenevo nel mio lavoro L'avesse portata a venerarmi Poi ho pensato Racconto dei miei successi per fornire un percorso di pratica Ciò protegge il lavoro della casa di Dio E inoltre parlo solo delle mie esperienze reali Senza mai esagerarle Ho di nuovo condiviso le mie esperienze di successo E la loro ammirazione e invidia mi rendevano assai felice Da allora, a ogni riunione Parlavo di quanto avessi sofferto e pagato un prezzo nei miei doveri Di come avessi condiviso la verità per risolvere i problemi E portavo a esempio tutti i miei successi Pian piano, i fratelli hanno iniziato ad adorarmi Aspettavano che risolvessi i problemi E mi piaceva molto il fatto di essere così venerata Al ritorno dalle riunioni Ricordavo le espressioni di ammirazione e stima dei miei fratelli E non riuscivo a contenere l'euforia Dopo poco che svolgevo i miei doveri Molte persone mi stimavano e ammiravano E il pensiero mi riempiva di forza e motivazione nello svolgerli E mentre ero immersa nella gioia di venire ammirata Ho subito potatura e trattamento del tutto inaspettati Un giorno, il capo della chiesa è venuto a dirmi Ho chiesto ai fratelli di valutarti nelle elezioni della chiesa E tutti dicono che ti piace metterti in mostra A quelle parole, sono subito arrossita dalla vergogna E ho pensato, perché dicono che mi piace vantarmi? Cosa pensa il capo di me? Come potrò guardarli in faccia? Farfugliando ho risposto Ammetto di essere piuttosto arrogante E involontariamente mi metto in mostra Ma non lo faccio deliberatamente Offro un sincero resoconto della mia esperienza e conoscenza Alla mia spiegazione, il capo ha risposto Tu parli della tua esperienza Ma perché i fratelli ti ammirano e si affidano a te Invece di affidarsi a Dio e cercare la verità Dici di non vantarti volutamente Ma perché non parli delle tue corruzioni, debolezze Oppure dei tuoi veri intimi pensieri Parli solo dei tuoi pregi E non della tua indole corrotta Sembra che tu persegua la verità e sappia sperimentare Non stai solo esaltandoti e mettendoti in mostra È vero Mi esponeva e criticava E io non sapevo che risposta dare Ricordavo di aver parlato soltanto dei miei successi nelle riunioni Non mi ero aperta sui fallimenti E neanche sulle varie mancanze nei miei doveri Mi stavo davvero mettendo in mostra Lo avevo fatto davanti a tanti miei fratelli e sorelle E ora tutti avevano discernimento su di me Provavo tanta vergogna e grande imbarazzo Da sprofondare sottoterra Più ci pensavo e più mi sentivo infelice Mi sono messa a pregare Dio Oh Dio, non voglio mettermi in mostra Guidami affinché possa conoscere me stessa Amen Poi ho letto un passo delle parole di Dio Testimoniare se stessi, mettersi in mostra E farsi ammirare dagli altri L'umanità corrotta è capace di questo È la reazione istintiva di chi è dominato da una natura satanica È un tratto comune all'umanità corrotta Di solito, come fanno le persone a esaltarsi E a rendere testimonianza a se stesse? Un modo è dichiarare quanto abbiano sofferto e lavorato E quanto si siano adoperate Considerano tali cose come capitale personale Le usano come un capitale per esaltarsi E così hanno un posto più alto e saldo nella mente altrui Affinché più persone le stimino, le ammirino, le rispettino e adorino Addirittura le idolatrino e le seguono Ecco, questo è praticamente l'effetto ultimo Tutto quello che fanno Il loro esaltarsi e rendere testimonianza a se stesse Sono forse cose ragionevoli? No, vanno oltre la razionalità Non hanno vergogna Dichiarano spuderatamente ciò che hanno fatto per Dio E quanto abbiano sofferto solo per Lui Ostentano persino le loro doti, i loro talenti, La loro esperienza e le loro competenze speciali O le loro abili tecniche e i mezzi con cui giocano con le persone Esaltano e testimoniano se stesse Mettendosi in mostra e sminuendo gli altri Tendono a fingere e a camuffarsi Nascondendo debolezze, difetti e mancanze a tutte le altre persone In modo che gli altri vedano solamente quanto esse siano intelligenti Non dicono agli altri quando si sentono negative Non si aprono né condividono con loro E fanno di tutto per nascondere e insabbiare i loro errori Non menzionano i danni che hanno causato alla casa di Dio Nel loro svolgimento del proprio dovere Ostentano invece tutti i loro contributi secondari Oppure minimi successi raggiunti Esse non vedono l'ora di far sapere a tutto il mondo Quanto siano capaci Quanto sia alta la loro levatura Quanto siano eccezionali E quanto siano migliori delle persone comuni Non è un modo per rendere testimonianza a se stesse? Esaltarti e rendere testimonianza a te stesso Rientra per caso nei limiti razionali dell'umanità normale? No Dunque, quando le persone fanno ciò Che tipo di indole si rivela di solito? L'indole arrogante è una delle principali manifestazioni Seguita poi dalla falsità Nel fare di tutto per essere ammirate dalle altre persone Le loro storie sono inconfutabili E le parole contengono motivazioni e macchinazioni E loro hanno trovato un modo per nascondere il fatto Che stanno ostentando Però il risultato è indurre gli uomini A crederle migliori degli altri Che nessuno le uguagli E che tutte le altre persone Siano a loro inferiori Questo risultato Non si raggiunge forse con mezzi subdoli? Quali indole si cela dietro simili mezzi? E ci sono degli elementi di malvagità? Questo è un tipo di indole malvagia Amen Questo passo mi ha proprio toccato il cuore Il mio comportamento non era proprio l'ostentazione rivelata nelle Sue parole Ho capito che parlavo solo della mia sofferenza E dei risultati positivi che avevo ottenuto nei miei doveri Alle riunioni i fratelli parlavano di problemi che non sapevano risolvere Ma io non condividevo sulla verità E non li aiutavo a capire la volontà di Dio Anzi, testimoniavo la mia abilità e la mia sofferenza Ho parlato dei viaggi e dei sacrifici Che ho compiuto per poter irrigare le persone E non della debolezza che ho manifestato quando ho avuto difficoltà Alle riunioni menzionavo gli ingressi positivi Di come portavo i fardelli rispettando la volontà di Dio Di come cercavo la verità per risolvere i problemi dei miei fratelli e sorelle O che molti venivano alle riunioni e svolgevano i doveri Grazie alla mia irrigazione Per far credere agli altri che sapevo risolvere i problemi Era la parola di Dio che permetteva loro di capire la verità E voler adempiere ai loro doveri È tutto merito della parola di Dio Io non L'ho esaltato né testimoniato la Sua opera e parola Ascoltarmi non ha portato nessuno a conoscerlo Ma solo ad adorare me Di fronte ai problemi non si affidavano a Dio Ma anzi, cercavano me invece di cercare la verità Ai loro occhi potevo addirittura salvare la loro vita Li stavo conducendo al mio cospetto Ingannavo le persone e competevo anche con Dio Sì Sì Eppure, io non mi rendevo conto di quello che facevo Pensavo di star parlando soltanto della mia esperienza reale Ora invece vedevo le intenzioni spregevoli che io nutrivo nelle condivisioni Desideravo guadagnare un posto nel cuore altrui Mi sentivo sempre più sfacciata, proprio spregevole Dio mi ha esaltata col dovere di irrigare Per condividere la Sua parola Aiutare gli altri a risolvere i problemi Condurli davanti a Dio, davanti alla verità Invece, nei miei doveri, mi mettevo in mostra dovunque per poter essere venerata Consideravo miei i risultati dell'opera dello Spirito Santo E poi li usavo come capitale per vantarmi Usurpavo la gloria di Dio e godevo dell'amirazione dei miei fratelli E non provavo vergogna Senza coscienza e ragionevolezza Dio ha predisposto che una sorella mi potasse Affinché riflettessi sulla via sbagliata che avevo intrapreso E invertissi la rotta Questa era la salvezza di Dio per me Giusto Non potevo più ferire Dio, ma dovevo pentirmi Amen La Tua comunione mi mostra che il mio stesso stato è in pericolo E anche io ho bisogno di conoscermi Sì Poi ho ricordato delle parole di Dio Fare esperienze di condivisione e comunione Significa parlare di ogni pensiero nel tuo cuore Del tuo stato, delle tue esperienze e della tua conoscenza Delle parole di Dio Nonché dell'indole corrotta che è dentro di te Altri discerneranno queste cose E accetteranno il positivo e riconosceranno quello che è negativo Sì Solo questo è condivisione e solo questo è vera comunione Amen Ponderando le parole di Dio Ho compreso che condividere un'esperienza non dovrebbe celare intenzioni Che sia positiva o meno Dovrei sempre aprirmi con i miei fratelli sulla mia vera condizione In modo che possano assimilare il positivo E imparare a discernere il negativo della mia esperienza Vedere che anch'io sono una persona molto ribelle e corrotta In questo modo non mi ammireranno Sì E così la mia esperienza può aiutarli ad evitare dei cammini sbagliati È bene praticare così Sì Vero Alla riunione seguente ho trovato il coraggio di parlare della mia condizione Ho spiegato di essermi messa in mostra soltanto per ottenere l'ammirazione altrui E di aver conosciuto me stessa In quella riunione ho provato un grande senso di gioia e sicurezza Lode a Dio Mettersi a nudo così è davvero molto utile Sì In seguito ho saputo che una sorella era molto depressa Una volta mi ha detto Alle riunioni ascolto sempre la tua esperienza e di come sai aiutare gli altri Però mi manca la verità, la levatura Non so risolvere i problemi Non riesco proprio a svolgere questo dovere A queste parole ho provato molta vergogna Ho pensato Sono direttamente responsabile della sua negatività Non esaltavo Dio nei doveri Non risolvevo i problemi dei fratelli nell'ingresso nella vita Ed esageravo e mi mettevo in mostra Illudendoli tutti che fossi dotata di grande levatura Non posso sbagliare ancora Devo aprirmi e rivelarmi alla sorella E così le ho detto tutto quanto Compreso il mio stato e anche di come mi ero messa in mostra in quel periodo Non possedevo le realtà della verità E poi i meriti erano dell'opera della guida dello Spirito Santo E che non avrei ottenuto un bel nulla da sola Si è commossa e mi ha risposto Non perseguo la verità e non ho posto per Dio nel mio cuore Tengo ai doni esteriori e non so riconoscere che è tutta opera di Dio Non voglio essere negativa Voglio affidarmi a Dio e adempiere ai miei doveri L'odi a Dio Allora ho riflettuto su me stessa Perché pur sapendo che resistevo a Dio Continuavo involontariamente a mettermi in mostra davanti agli altri Ma qual era il mio problema? In seguito ho letto delle parole di Dio Alcuni idolatrano in modo particolare Paolo Essi amano uscire, tenere discorsi e lavorare Amano riunirsi e anche predicare Essere ascoltati e adorati dalla gente E che tutti gli altri ruotino sempre intorno a loro Amano essere considerate persone di prestigio E che l'immagine da loro presentata sia apprezzata Analizziamo la loro natura Alla luce di questi comportamenti Qual è la loro natura? Se si comportano realmente in questo modo Basta dimostrare che sono delle persone arroganti E che non ben erano affatto Dio Ricercano uno status più elevato E desiderano esercitare autorità sugli altri Dominarli E desiderano avere prestigio ai loro occhi Questa è la classica immagine di Satana Ciò che emerge della loro natura È arroganza, presunzione, riluttanza a venerare Dio Ma il voler essere venerati Simili comportamenti possono offrire una visione chiara della loro natura Sì Amen Da quanto rivelato dalla parola di Dio Ho compreso che mi piaceva mettermi in mostra con i miei fratelli E indurli ad ammirarmi Perché controllata dalla mia natura arrogante È il mio cammino di resistenza a Dio Così la mia natura arrogante mi accresceva L'autostima quando nei doveri ottenevo dei risultati Alle riunioni esageravo sempre E mi vantavo dei miei successi Per dimostrare che ero capace e portare gli altri a stimarmi Le difficoltà nei doveri mi facevano sentire debole Mi mostravo corrotta e irribelle Però non ne parlavo mai per apparire eccezionale In modo che gli altri mi ammirassero e adorassero Sì Quando i miei fratelli e sorelle mi lo davano Ero molto felice Godevo senza vergogna della loro adorazione Non stavo forse cercando di diventare un re nel loro cuore E di competere con Dio? Sì Ho pensato a quanto Paolo godesse della predicazione A come rivendicasse i risultati dell'opera dello Spirito Santo Come proprio capitale Egli si metteva in mostra E portava tutti i credenti davanti a sé Tanto che persino oggi, dopo duemila anni L'intero mondo religioso ancora lo adora Tratta le sue parole come parola di Dio E non ha la minima conoscenza del Signore Gesù Paolo era arrogante, ipocrita Percorreva il cammino di un anticristo che si oppone a Dio Ha preso il suo posto nel cuore della gente Poi ha offeso l'indole giusta di Dio Che lo ha punito e maledetto Sì Non ero forse come Paolo? Anche io ero arrogante Mi piaceva mettermi in mostra E circondarmi di persone Così, dopo mesi di queste performance Tutti mi stimavano e ammiravano E non avevano posto per Dio Quando c'erano dei problemi Chiedevano a me la soluzione, non a Dio Non stavo forse resistendo a Dio e danneggiando i fratelli? Ho accettato l'incarico di Dio, ma mi sono opposta, diventando Sua nemica Stavo percorrendo il cammino d'anticristo di Paolo Sì Se non mi fossi pentita Poi ho visto un video in cui veniva letto questo passo Dio Onnipotente dice Qual è la tua comprensione dell'indole di Dio Di ciò che Egli ha ed è Qual è la tua comprensione della Sua autorità E della Sua onnipotenza e saggezza Qualcuno sa da quanti anni Dio opera in mezzo a tutta l'umanità E a tutte le cose Nessuno sa esattamente da quanti anni Dio opera e gestisce tutto il genere umano Egli non riferisce tali cose agli uomini Tuttavia, se Satana lo facesse per un po' Lo dichiarerebbe? Lo dichiarerebbe certamente Satana vuole mettersi in mostra Così da poter ingannare più persone E avere più persone che gli danno credito Perché Dio non riferisce di questa attività? Vi è un aspetto dell'essenza di Dio Che è umile e nascosto Cos'è all'opposto dell'essere umile e nascosto? L'arroganza, l'impudenza e l'ambizione Gli anticristi non sono da meno Si vantano davanti a tutti di ogni minima cosa che fanno A sentirli parlare Sembra che stiano testimoniando Dio Ma se ascolti attentamente Scoprirai che non è così Anzi, si stanno mettendo in mostra Si stanno facendo grandi La motivazione e l'essenza di ciò che dicono È competere con Dio per il suo popolo e per il prestigio Dio è umile e nascosto Mentre Satana fa sfoggio di sé C'è una differenza? Satana potrebbe mai essere descritto come umile? No A giudicare dalla sua natura e dalla sua essenza malvagia Satana non è che un rifiuto privo di valore Ci sarebbe da stupirsi se non si mettesse in mostra Come potrebbe Satana essere chiamato umile? Umiltà è quanto viene detto in riferimento a Dio L'identità, l'essenza e l'indole di Dio Sono nobili e onorevoli Eppure Egli non si mette mai in mostra Dio è umile e nascosto Non lascia che la gente veda ciò che ha fatto Ma mentre Egli opera nell'anonimato Il genere umano è costantemente sostenuto Nutrito e guidato E tutto questo è disposto da Dio Non è forse nascondimento e umiltà Il fatto che Dio non divulga mai queste cose Che non le menziona mai? Dio è umile Proprio perché è in grado di fare queste cose Senza divulgarle né farne menzione Senza discuterne con gli uomini Che diritto hai di parlare di umiltà Quando sei incapace di tutto questo? Tu non hai fatto nessuna di queste cose Eppure insisti a prendertene il merito Questo si chiama essere spudorati Guidando l'umanità Dio compie un'opera eccelsa Ed Egli governa l'intero universo La Sua autorità e il Suo potere Sono così vasti Eppure Egli non ha mai detto Le mie capacità sono straordinarie Egli rimane nascosto tra tutte le cose Governando tutto Nutrendo e sostentando il genere umano Permettendo a tutta l'umanità di perpetuarsi Generazione dopo generazione Prendi l'aria e la luce del sole Per esempio O tutte le cose materiali e visibili Necessarie per l'esistenza umana Tutte fluiscono senza sosta Che Dio offra sostentamento all'uomo È fuori discussione Quindi se Satana facesse qualcosa di buono Lo passerebbe mai sotto silenzio E rimarrebbe un eroe non celebrato? Mai Lo stesso vale per la presenza Nella Chiesa Di anticristi Che in precedenza si sono assunti Un compito pericoloso O che una volta Hanno svolto un lavoro dannoso Per i loro interessi E che magari sono anche andati in prigione E ci sono anche quelli che in passato Hanno contribuito a un qualche aspetto Del lavoro della casa di Dio Costoro Non dimenticano mai queste cose Pensano di meritarne credito per tutta la vita Le ritengono il loro capitale Vita natural durante Il che dimostra quanto infime siano le persone Le persone sono infime E Satana è uno spudorato Amen Amen Dopo queste parole mi sono vergognata Dio è il Creatore Ha autorità e potere E non esiste stato più alto Eppure si è incarnato personalmente Per salvare l'umanità Ed esprimere in silenzio la verità Per salvare le persone Dio è supremo e potente Eppure non rivendica mai la sua condizione Non mette mai Mostra quanto ha operato Per salvare l'umanità corrotta O quante umiliazioni subisce Anzi, resta umile e nascosto tra la gente E porta avanti la sua opera Questo è qualcosa che nessun umano corrotto può fare Giusto Sì Vedendo che l'essenza di Dio è santa e bella Mi sono vergognata moltissimo della mia presunzione E dell'ostentazione di me stessa Sono una persona davvero infima e corrotta da Satana Agli occhi di Dio sono insignificante Eppure mi sono esaltata e vantata E ho indotto gli altri ad adorarmi Ero così arrogante Che non ero degna di vivere davanti a Dio In preda alla vergogna ho pregato O Dio, attraverso il Tuo giudizio Ho visto che sono priva di umana sembianza E non voglio più vivere così O Dio, guidami a praticare la verità E liberami dalla mia indole satanica Amen Dopo come hai praticato e che brani hai letto? Questo passo qua Lo leggo io Quando testimoniate Dio Dovreste parlare di come giudica e castiga Di quali prove usa per affinare le persone E cambiarne l'indole Della corruzione rivelata nella vostra esperienza Di quanto avete sopportato E di come siete stati conquistati da Dio Parlate di quanta vera conoscenza dell'opera di Dio avete E di come testimoniarlo e ripagarlo Del Suo grande amore Dovete cercare di parlare Con sostanza e anche con semplicità Non parlate di teorie vuote Ma in modo più concreto con il cuore È così che dovreste sperimentare Non armatevi di teorie vuote In apparenza profonde per esaltarvi Questo vi fa apparire arroganti e irragionevoli Dovreste parlare delle vostre esperienze effettive Genuine e che provengono dal cuore È ciò che reca più beneficio agli altri Ed è quanto di più adeguato possano vedere Amen Eravate persone che si opponevano massimamente a Dio Le meno inclini a sottomettervi a Lui Ma ormai siate conquistate Vedete di non dimenticarvelo mai Dovreste meditare e riflettere di più su tali questioni Una volta che le persone le avranno comprese Sapranno testimoniare o saranno propense a compiere azioni indegne e insensate Amen Ho trovato percorsi di pratica nelle parole di Dio Per risolvere il mio problema del mettermi in mostra Ho dovuto testimoniare Dio Testimoniare l'opera e l'indole di Dio e i Suoi requisiti per le persone Esporre la mia corruzione e le mie spregevoli intenzioni E le loro brutte conseguenze Quando facevo le cose E parlare di come ho sperimentato il giudizio di Dio Conoscendo così me stessa Così gli altri possono discernere la mia corruzione E conoscere l'opera di Dio Vedere la salvezza di Dio e testimoniare il Suo amore Sì Ho dovuto imparare a parlare delle mie esperienze con sincerità e dal cuore E a cercare di non pormi al di sopra delle altre persone Comprese queste vie di pratica Ho cominciato ad adottarle consapevolmente In una riunione Un fratello ha parlato della ricerca di reputazione nei Suoi doveri Si paragonava con tutti Era infelice e non sapeva come risolverlo Mentre lui descriveva il suo stato Ho pensato Se risolvo io il suo problema Quando parlerà della sua esperienza in futuro Dirà che è la mia condivisione che gli ha permesso di cambiare il suo stato I fratelli mi ammireranno E poi diranno che capisco la verità Devo inserire le giuste parole nella mia condivisione E dirgli la mia esperienza Poi in quel momento ho biasimato me stessa Perché di nuovo stavo agendo in base a un'indole satanica Tutto quello che avevo appena pensato mi disgustava Come aver ingoiato una mosca Ho pregato Dio nel silenzio del mio cuore Chiedendogli la forza di rinunciare a me stessa ed esaltarlo Brava! Così ho parlato della mia passata ricerca di prestigio Del mio fallimento e che ero stata sostituita E che in seguito, attraverso il giudizio della parola di Dio Ho conosciuto me stessa e sono cambiata Dopodiché, il fratello ha riconosciuto D'avere una natura arrogante Che volere prestigio è il cammino di un anticristo E che voleva pentirsi Ho iniziato a ringraziare senza sosta Dio nel mio cuore Quella era la guida di Dio Sì Da allora, nella mia comunione con i miei fratelli Anche se a volte mi vantavo ancora La cosa non era evidente o grave come lo era prima A volte pensavo di vantarmi Però poi pregavo Dio e abbandonavo me stessa Pian piano l'ho fatto sempre meno E la voglia di mettermi in mostra è andata scemando So che sono stati il giudizio, il castigo, la potatura E il trattamento della parola di Dio a cambiarmi Ringrazio Dio Onnipotente Lade a Dio Adesso anche io ho un cammino di pratica